Ca' Foschere è una grande università e Venezia è una bellissima città. Summer School. Challenging, motivante, divertente. Summer School. Studiare la Summer School di Ca' Foschere è un'esperienza unica, è una città eccezionale che d'estate dà il meglio di sé. È un'occasione migliore per studiare la materia. La Summer School è un'esperienza in più rispetto all'esperienza universitaria accademica. Un'internazionale comunità dove i studenti possono incontrare, imparare insieme e avere un'esperienza di vita. C'è stata più interazione con i professori. Ci sono stati un sacco di eventi che hanno permesso di relazionarci e di conoscerci meglio. Quindi si crea un clima diverso all'interno delle lezioni. La nostra filosofia è di creare una comunità. The new Summer School di Ateneo is going to be a huge project. We offer courses and labs in humanities, economics and environmental science. We offer Jewish studies, climate change, sustainability, marine biology, cutting edge, disciplinary approach. Anche con i professori il rapporto è stato diverso. Really wonderful, really amazing to see the exchanges between the two cultures, to see friendships made that you know will last forever and just an exchange between people that may have never met. Quest'estate è stata piena di incontri con persone straordinarie. You meet people from everywhere. You study in a city that's unlike anywhere else. The courses are traditionally linked to the city and to Italian culture, but not only. È un modo per scoprire Venezia veramente. I miss traffic often and every once in a while smog. But then I look around me and I realize, like, look where we are and there's nothing that gets close to this, this beauty every single day. È bellissima perché è una città che ha una dimensione umana. They would roam the city, row in the canals, swim at the Lido and chat in the Venetian Campos. In reality there's a lot more behind all of that and that's part of the beauty of studying and living here is that you see it's a really dynamic city and full of small angles and corners that you may never have found if you hadn't lived here. È una città multiculturale per sua stessa formazione, qui non ho trovato spazio praticamente tutte le culture del mondo. È meraviglioso, pieno di persone, pieno di eventi, di arte, di show, di concerti, di molti di cose da partecipare. Venite a studiare a Caposchere e alla sua Summer School perché troverete corsi di grande qualità. È una città che vi travolgerà e affascinerà. Know about yourself until you know about other people, so you need to get out and meet other people and be in this multicultural environment. È un'esperienza che consiglio a tutti. Testa, a parte nel curriculum rimane comunque come esperienza formativa e culturale. È una bella esperienza. Caposchere Summer School. È una bella esperienza. È unico, non è come in alcun altro paese. È unico, non è come in alcun altro paese.